ciao a tutti amici security info benvenuti a questo nuovo appuntamento con last week security enterprise dopo la pausa estiva siamo ancora qui con massimo carlotti cyberarch ciao massimo ciao giancarlo e buongiorno a tutti bentornati oggi abbiamo un po di temi come al solito molto interessanti dovremmo fare una puntata di 15 ore per recuperare tutto quello che è successo le settimane passate invece andremo abbastanza spicci su dei temi partendo dalle news per parlare di temi comunque molto interessanti e da dove vogliamo partire questa settimana massimo beh partiamo con una abbastanza leggera legata magari a un problema che alcuni hanno sperimentato di cui quantomeno hanno letto relativo a un problema sul cosiddetto evil cursor quindi il cursore cattivo che si usa durante la navigazione su browser benissimo dai partiamo con questa faccenda del puntatore perché mi è una è uno dei trucchi che mi ha sempre affascinato di più perché dimostra quanto gli hacker diciamo i criminali in realtà abbiano fantasia nel mettere a punto i loro attacchi beh in buona sostanza in cosa consiste questo attacco nel modificare il puntatore che usiamo quando navighiamo sulle pagine del browser questo in passato veniva visto come un ottimo spunto per personalizzare il cursore stesso quindi renderlo magari più o meno simpatico un po più accattivante vicino al logo dell'azienda sulla quale stavamo navigando eccetera eccetera ebbene il problema qual è che viene modificato tramite lo sfruttamento di questa flessibilità l'area nella quale il cursore effettivamente fa clic e in questo modo si riusciva a influenzare la navigazione in modo da fare sì che l'utente inconsapevolmente cliccasse su link verso risorse a questo punto di qualsiasi tipo potenzialmente malevole esatto ma non solo anche per l'attivazione per esempio di possibili servizi a pagamento non voluti per esempio piuttosto che ovunque serva un click da parte dell'utente basta mostrargli un cursore che sembra esattamente quello a cui ho abituato ma che in realtà è posizionato 50 pixel più in basso e succedono le peggio cose sembra banalità ma se ci pensate provate quando navigate magari sui link e rendetevi conto che a volte l'area tra virgolette attiva in realtà abbastanza ben delimitata allora modificare il cursore può essere estremamente efficace nel modificare l'area sulla quale viene fatto effettivamente il conviene attuato il comando di ricordiamoci che il puntatore di per sé è semplicemente un artefatto grafico cioè è un disegno il concetto è che il punto del click è ben definito e sta in una posizione se però il disegno prevede 15 pixel bianchi cioè trasparenti e poi sotto il puntatore noi siamo abituati a pensare che si clicchi in un posto e invece l'area di click è da tutta altra parte tutto ciò è molto bello devo dire una cosa che mi è sempre piaciuta molto come tipo di attacco sì il problema è stato risolto quindi anche qui torna secondo me un un evidenza sul fatto che i browser vengono ormai aggiornati automaticamente o quasi quindi questo è un richiamo che poi riprenderemo in una delle altre notizie la cosa secondo me interessante è legata al fatto che effettivamente c'è questa grande creatività da parte del degli attaccanti quindi non bisogna mai dare troppo per scontato quello che facciamo perché è proprio lì che si annida a volte la la falla la breccia sulla quale si viene colpiti e non dimentichiamo che oltre alla creatività i benedetti criminali hanno anche grandissime capacità tecniche tant'è che il nostro secondo se vogliamo appiglio di questa settimana riguarda proprio un trend piuttosto preoccupante che si sta vedendo nel settore sicurezza informatica ovvero quello dell'abuso delle epi che cosa sta succedendo in quel settore massimo allora intanto facciamo una piccola premessa molto breve sta diventando sempre più frequente sempre più diffuso l'utilizzo delle epi cioè delle librerie tramite le quali si riesce a integrare applicazioni tra loro e si riesce a personalizzare magari servizi che vengono effettivamente messi a disposizione agli utenti fin qui tutto bene un'ottima iniziativa permette sicuramente un'integrazione più stretta tra servizi applicazioni ambienti quello che purtroppo sta esponendo un po al fianco è che il troppo utilizzo di epi soprattutto di epi troppo come si suol dire verbose troppo chiaccherone sta esponendo il fianco a quello che invece un problema di security esatto tra l'altro qui si ci troviamo davanti alla classica classicissima situazione del se è comodo da utilizzare probabilmente è molto meno sicuro di un altro sistema le epi sono una benedizione per i programmatori perché ti permettono di interfacciare qualsiasi cosa al volo il problema è che così rischiano di interfacciarsi al volo anche i pirati sì in particolare c'è un problema di fondo che è proprio di tipo culturale tipicamente facciamo la semplice quando si utilizza un epi c'è una chiamata a funzione quindi l'applicativo 1 chiama l'applicativo 2 o meglio invoca le piede dell'applicativo 2 la quale risponde dicendo ok oppure no segnalando un errore e comunicando delle informazioni che servono tipicamente per il debug o per perfezionare l'integrazione tra i due sistemi ebbene quanto più queste epi parlano quante più comunicazioni mandano quante più informazioni condividono in risposta alla chiamata e tanto più daranno informazioni a un attaccante che è competente e tecnicamente preparato ovviamente diciamo che nel nostro pezzo noi citiamo il post del ricercatore che ha fatto una breve riflessione su questa cosa e lui spiega molto molto bene devo dire quali sono i passi che lui segue per andare a verificare la robustezza delle epi che sono effettivamente poi gli stessi passi che vengono seguiti dai criminali per poi effettivamente abusarne è una lettura molto interessante secondo me che vale la pena fare per capire un attimo qual è il problema e invece poi torniamo a un altro nostro problema che sta esattamente all'opposto se vogliamo di come è stato risolto il problema dei browser di firefox con cui abbiamo aperto allora sì diciamo che l'abbiamo presa alla larga stiamo parlando di lemon duck in particolare lemon duck rientra in tutto quel novero di nuovi strumenti d'attacco che in realtà sta diventando più che dei singoli strumenti delle piattaforme cioè sono degli ambienti integrati sui quali vengono caricati dei moduli ciascuno dei quali è in grado di perpetuare uno o più attacchi ora quello che è tornato in auge è che pare che appunto lemon duck abbia ripristinato la possibilità di effettuare attacchi basati su eternal blue notissimo bug del protocollo smb di microsoft e utilizzare versioni più o meno adattate di mimicatz che è uno strumento abbastanza noto nell'ambiente per la compromissione di credenziali piuttosto che altre funzioni, altri tool, altri moduli uno in particolare sembra aver preso di mira i sistemi linux non è l'unico, ripeto, è un framework quindi parliamo di n modalità, n tecniche d'attacco n moduli, n tool che vengono integrati in un unico ambiente certamente e questo ci porta a due cosette di base ricordatevi che linux non è invulnerabile e ricordatevi anche che bisogna aggiornare i benedetti sistemi ecco appunto, questo è una cosa interessante allora, lemon duck di fatto sfrutta delle vulnerabilità o meglio dei tool che cercano di attaccare delle vulnerabilità più o meno note non necessariamente parliamo di zero day quindi torna a riproporsi la problematica dell'aggiornamento dei sistemi del patching dei sistemi che è una cosa sulla quale inevitabilmente finiamo per tornarci quasi tutte le settimane c'è un altro spunto interessante cioè che lemon duck ha anche un'anima diciamo così di generazione di profitto diretto tramite il mining di criptovaluta in particolare l'amatissima monero dal mondo hacker l'amatissima dal mondo hacker prevalentemente perché è meno tracciabile di altre beh certo quindi diciamo che lemon duck continua a dispensare le sue lezioni nella maniera più dura diciamo massimo io ti ringrazio tantissimo e ci diamo appuntamento la settimana prossima Giancarlo grazie buona giornata a tutti a presto grazie a tutti Grazie a tutti.